oh ascolta fra dobbiamo fare un colpaccio colpo 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 tanti moni c'è sto tipo qua è pieno di soldi non è da pecca che è grosso però tranquillo è una pistola finta tanto però lui non se ne accorgerà che è una pistola finta speriamo se non si spaventano si spaventerà tranquillo entriamo dentro facciamo come nel film il punto alla pistola lui si spaventa alza le mani facciamo che il punto alla pistola lui si spaventa gli faccio tirare fuori i soldi e scappiamo veloce e semplice io faccio il pane intanto se vedi che non c'è da fare il pane o Oh, dammi sorgho, dammi sorgho! Dami sorgho! Dami... 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 Iisus! Mini imparate, ma distrigg... Ok, diam, ricordateci te cibili scopi! Hai cibili che ora? Goli salvi, Goli salvi! Goli me! Oggi Oh pronto ora Vieni, vieni, vieni Tutto pulito qua Ok, arrivo Viva Stiliatri Le rubate nelle cance bagliate Ti preparo la barra